IHA ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale Io sono Magnus Per un pelo avevamo, per un pelo ce l'avevamo in pugno Il generale Grinus lo stavamo praticamente ammazzando E invece è scappato, godardo Ok, ci siamo Ah, abbiamo capito una cosa fondamentale Grazie al nostro amico Francesco Che praticamente abbiamo per le stelle gialle Servono però a metà cose I Minoc sono situati in tutta la galassia E eliminandovi otterrai delle ricompense Ah, grazie Gialle per il livello, verdi per la vita Mentre invece viola sono per le mostre speciali Che dobbiamo ricaricare ogni tanto E poi abbiamo blu che sono per i soldi Non male Ah, mostre dettagli della missione Vabbè, questo non è che poi ci interessa tanto E andiamo avanti Fate entrare i cantini Dobbiamo sapere chi l'ha inviato su Geonosis e quali erano i suoi piani Una nave nella zona di atterraggio ti porterà sul luogo Ok, quindi possiamo proseguire Da cui invece ci schiantiamo giù praticamente No, ah no Qua si scende Secondo me si trova qualcosina di carino Attenzione però Non vorrei E magari Aspetta Ah, non lo prego Aspetta, non lo riesco a beccare Ok, presto Aspetta, eh Perché vediamo che può essere Che forse riusciamo A sbloccare Ma non vedo più niente Va bene Ok, forse serviva soltanto per questo La nostra scaletta Ok Ok Vai Vai Andiamo Ah, guardate che cosa ho scoperto Figo Non mi sa ci può essere molto utile Per lo scatto finale Andiamo avanti Ok Tu mi guardi le spalle Ti mi premuto R1 per caricare E o cambiare la mossa speciale di un personaggio Ok Vediamo un po' che dice uno Eh no Veramente Se tengo premuto R1 Alza Devi tempire Il cotetone di mossa speciale Ok Vabbè Ma Non è che sono molto convinto Ok Parliamo con lui E tu sono il colonnello Mi burgascono Ho degli ordini importanti per te Vai avanti Sembra che Quei malvagi separatisti Stiano cercando Di far penetrare Un pelotone di droidi Bix Dietro le nostre file Camuffati da cloni soldato Trova le spie E neutralizzale Va bene Più che pronto Risponde Skywalker Ok Ma in pratica questi qua Li possiamo anche attaccare No Li possiamo afferrare Oh E Possiamo anche lanciare Ops Scusami Era una prova E l'abbiamo fatta Ok Vabbè Comunque Andiamo avanti Vediamo lì Che ci sono Ci becchiamo Anche un pochettino Di Di Energia Che ci possono sempre servire Ok Vai Arrampicati Perfetto Andiamo avanti Parlo con te Ma sei la stessa persona Dei droidi Sperristi Hanno preso La mia Canoniera Di giocattolo Oh So che in quanto Giovane Jedi Dovrei mantenere La calma Ma quelle ferraglie Non hanno bisogno Di giocattoli Sono droidi Può aiutarmi A trovarlo Non se ne accorgeranno Ok Quindi possiamo Intraprendere Due strade A questo punto Abbiamo Attuato Sì Per aiutare Prima lui Ok Andiamo prima Ad aiutare Il nostro amico Possiamo anche Schizzare così Prendiamoci sempre Anche questa Vediamo se riusciamo Allora A pregarci da qua Vai Vai Ok Perfetto Ok Afferriamo E questo Glielo riportiamo subito Vai Vai Ok No A lanciare Non credo che sia Una buona idea Però Magari proviamo A lanciaglielo Così Ah L'hai trovata Grazie E ora Disponibile Nella scatta dei giochi Perfetto Possiamo A questo punto Mostra di dettagli La missione Perfetto Quindi abbiamo Comperato anche Questa missione Rector Il giovane Toots E provalo Per il tempio Jedi Perfetto Andiamo avanti Scusami E quindi A questo punto Possiamo Sicuramente Parlare con te Dobbiamo trovare Eh sì Un attimo Aiutavo un attimo Il tuo amico Ciao No Te non ti posso Prendere Perfetto Afferriamo Non è che siamo qui A pettinare le bambole È soltanto Per Aiutare Buonasera Vai Stai bene E si rimbomba Ok È lui Sei tu Oh che bella armatura Ah ti sei arrabbiato Scusami Aia E questo Oh ma Non è che ti ho preso A posta Aspetta Eh Pardon Ma È arrabbiato E ti ho peccato Ok Dobbiamo andare Da quest'altra parte Qua Ok Ecco qua Perfetto Non è che avevo capito Mi lascia Vai Ok Perfetto Se guardiamo giù È abbastanza alto Quindi stiamo attenti Ok Ci arrampichiamo Ma Non vorrei Ma Mi sa che La strada più breve Era proprio quella Io in pratica Ho fatto il giro Lungo Ci stiamo allontanando Eh Da lì Non ci possiamo arrampicare Aspetta 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 Vediamo se ci riusciamo Scusami No No Di qua Quindi abbiamo trovato Una strada alternativa Ma in pratica È alla stessa strada Di prima Perfetto Forse Magari dal ponte Avremmo fatto prima Una bella furbata Eccoti qua Eccone uno Distrugge quel due Prima che ti scopra Ok No Sto attecchiamo Subito Le spalle Vai Aspetta Vai Lo finisco Non c'erano E' una gran figata E' questa cosa Della velocità Perché in pratica Riesco Subit E andare da questa parte Aspetta Un pochettino Perché Qui Non è che vedo Altre soluzioni Aspetta Dove chiamo Ah Attenzione Allora È da lì Dobbiamo andare Sì Sta là Lalla Sta là L'ho visto L'ho visto Non è che forse Camminando Da questa parte Ci riusciamo Aspetta No Ok Allora dobbiamo Riuscire per forza Riuscire Completamente E riandare Dall'altra parte Pardon Sfogo la mia ira Altrimenti Non possiamo La musica Che ci accompagna Ok Ti prendo Ok Vai Eccolo Ok Quindi l'abbiamo visto Sta là Sta là Sta là Ok La direzione Guarda che navicella Fantastico Dai che l'abbiamo quasi trovato Vai Vai Ups Da questo movimento Sembrava Aspetta Aspetta Dove Ce ne stanno pari Eccola Aspetta Ammazziamo Vai Aspetta Nella Prezzo Ok Vai Ok Perfetto Siamo usciti Dettagli Perfetto Possiamo andare Avanti Vediamo lì Cosa ci dice Salve maestro Sto andando al tempio Jedi Su Kuruskan Ma non trovo più Il mio giocattolo preferito L'avevo dato alla mamma Mi aiuteresti a trovarlo Sono pronto Che palle Troviamo questa Creatura giocattola Perchè miseria ragazzi Però Cioè non è che stiamo qui Qua dobbiamo andare a combattere Seriamente E invece Ci ritroviamo A trovare I giocattoli A questi qua Cioè Non so Vabbè Vabbè comunque L'abbiamo già trovato Va È facile Ma non sembra così pesante Anagin Hai fatto uno sforzo Quasi da Ernia Da Ernia Il giocattolo Fa abbastanza schifo Però Diciamo Per toglierci Una leggera soddisfazione Glielo lanciamo Così Ups L'ho lanciato un po' male Attenzione Non vorrei che magari Lo buttassi giù Grazie maestro E di che Sei così formidabile Da prendere il tempo Per aiutarmi Non lo dimenticherò mai Ok Vado al tempo Già discluso Ci vediamo lì Va bene Ok Figurati Ok Abbiamo completato Anche quest'altra missione E abbiamo aiutato Lui A trovare Il suo giocattolo Che la mamma Non è che capite Se gliel'aveva perso O Gliel'aveva nascosto Ok Dobbiamo riandare Laggiù Perché mi sei Dobbiamo andare proprio lontano Eh lo so Però magari Una dammicella Spaziale Che ci possa fare Un teletrasporto Più veloce Beh lì si è giocato Ma non li posso anche Ah si è duri però Aspetta Uh questo è un cane E nini Aspetta Rina su questo Mannaccia La forza Non funziona Che la forza Non sia con te Ok Eh no eh Aspetta Con tutto il rispetto Ma Voglio Vedere se riusciamo A completare La parte Questa è la missione Principale Siamo lontanini Eh Perché vedete Ammazza quanto siamo lontani Sai Che è questa cosa Ah sfida di combattimento Vabbè Magari se abbiamo un po' di tempo Dopo ce la facciamo Team è venuto per spezzare la difesa di un nemico Vabbè Oh oh Attenzione Cavolo Non l'avevo visto eh Mi sta Porca miseria Da queste Queste fessure Alate Vai Ok Vuoi avviare Dai checkpoint Attivati in caso No ma No 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 Neanche No Benvenuto nel tuo terminale Dello spazio porto Da qui puoi accedere A qualunque nave Della tua collezione Puoi anche attivare Una mappa stellare Per esplorare diversi luoghi Attraverso le galassie Attiva la tua mappa stellare Per iniziare Va bene Attiva Di informarti delle missioni Di cui ti devi occupare E gli oggetti che devi ancora raccogliere Come vedi la tua posizione attuale È evidenziata Eccellente Come vedi è ancora molto da fare qui Comunque per il bene di questa calibratura Lanciamoci nello spazio Seleziona la tua destinazione Va bene Va bene Ok Quindi Oh ok Ah questa ancora L'abbiamo sbloccata Perfetto Ideale ma anche qua Aspetta questo era Sì Curuscant Va bene ok Quindi ancora non ci siamo arrivati Va bene ok È carino Qui abbiamo No Allora ok Quattro oggetti Tre stelle Sfide zero Perfetto Dove andiamo Allora Aspetta un attimo Che volevo Selezionare la destinazione Questa è la piattaforma d'atterraggio Serve per scorrere e selezionare Le navi della tua collezione Mi sono preso la libertà Di caricare un'anteprima Delle navi Che non hai ancora scoperto Scegli una nave disponibile E seleziona Lancio Questo è ridicolo Potrei essere la collezione Ok Scegliamo la nave Ehm Vabbè ce ne sono due Non è che poi ce ne sono chissà quante Ma Questa è troppo piccola E' più figa questa Confermato Rilevo droidi a voltoio nel tuo settore Ingaggiali e distruggili Ok Attenzione che Qua non è che ci capisco Oh Mio quasi il mal Il mal d'auto Ok Allora Stiamo andando nella direzione giusta Perché vedo che il tempo si avvicina Però Ah 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 Andiamo Vado verso la luce Vado verso la luce Ok Ah ah c'è Aspettiamo Ok Aspettiamo Aspettiamo Devo andare Di qua Ci stiamo allontanando Ci stiamo allontanando Vai 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 Aspetta Preso Eh anche io mi sono preso praticamente Questo è un atterraggio Direi scomodo Dove sta? Sopra E dove sta? Ah eh Eccolo qua Ok vai 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 Aspetta Ebbene Ebbene Vai vai Lo prendiamo Lo prendiamo No no Ma no Vai 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 Aspetta Eccolo Eccolo Ebbene 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 E stiamo a tre Ok Ok Fatto fuori anche lui Vai 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 Porca Aspetta Ah eccolo Vai 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 Qualcissima Ne resteranno soltanto Ok Vai Oh mi sono quasi abituato Eh al mai Al mai Da Aspetta Aspetta Da Vieni qua Eccolo qua E andiamo Dove stai? Dai Eccolo Eccolo Vai Vai giù Vai giù Vai giù Vai che stai salendo Ma dove cavolo Oh Che gran culo Allora Allora Eccolo 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 Aspetta Preso Ah Ce l'abbiamo sotto Ce l'abbiamo sotto Questa Ah Aia Dove 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 Aspetta Vieni bello Vieni 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 fratello Vieni Oh Ah Vieni Ah Scherzo Sei un eccellente pilota E che lo dice a fare Fate entrare i cattivi Ok Attenzione Con le pietre Tieni premuto Per accelerare Ok Eh ma Se me lo dicevi Magari prima Non è che Ok Oh Però Però no Non in faccia Attenzione Aspetta Aspetta Che mi sa che Ho sbagliato a strada Ho un po' di difficoltà Aia Ho leggera difficoltà Nel Nel muovermi Che Cavolo Ma perché mi sono andato a incastrare Eccolo Eccolo Vai Aspetta Dove sta Vieni qua Vieni Non mi dico Vieni Eccoti qua Allora Dove sta Aspetta Eccolo Mi sa che mi hanno ammazzato Allora Aspetta Ecco C'è l'assolto C'è l'assolto Bastardo Eccolo Ok Stiamo Quattro Aspetta Eccolo Ok Preso Supra Supra Vai Aspetta Aspetta Ah Vai bravo Vai bravo Eh Eh Ah Ah Aspetta L'ho preso con l'ala Eh L'ho preso con l'ala Però vai Lo stesso E poi c'è anche un altro Dai 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 Che ce la facciamo Dove che avevo Stai Sotto Senti A sinistra Perciò Venire Cinco Sepatica Pro Hai un modo Niente Di pilotare La tua rotta è Coruscant Centro galattico Zero 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 Entra nell'iperspazio Quando sei pronto Ok Ragazzi Anche quindi Ci dobbiamo Dirigersi Verso Cuscan Premi Per accedere alle mappe Stellare E viaggiare In diversi sistemi Spero come sempre Che questo video Vi sia piaciuto Non vi dimenticate Di commentare Mi stavo schiantando Non vi dimenticate Schiantando Non vi dimenticate Di commentare Non vi dimenticate Di mettere mi piace Noi ci vediamo Sempre al prossimo video Bye bye Cosent'è attiva L'iperguida